Progetti di recupero, parchi a tema, nuove strutture, l'Umbria punta su territorio ambiente per richiamare turisti dopo la crisi post-sisma, l'esempio del Peglie della Polvese. Buon pomeriggio dal TGR, un importante progetto di riqualificazione e valorizzazione territoriale che punta ad accrescere l'offerta culturale e turistica nella zona del Montepeglia. Ce ne parla Paolo Raffelli. Ci vuol poco a dire che questo è uno dei panorami ripetibili dell'Umbria. La Valle del Tevere, il lago di Corbara dal Montepeglia. Un'area fantastica, un'area che ha bisogno di valorizzazione. Perché qui ci sono le condizioni anche per realizzare un museo della civiltà contadina, un parco museo ambientale della civiltà contadina che non avrebbe probabilmente il comparabile nel territorio regionale. Non è una cosa statica, quindi non è un museo, è anche un'azienda didattica e quindi ci saranno dei piccoli allevamenti, ci saranno delle coltivazioni di piante, di frutta antica. Molto si dovrebbe reggere, tutto il complesso con la parte esistente e la parte nuova attraverso una gestione complessiva tutto l'anno con il turismo. Esattamente a cavallo tra i comuni di San Venanzo e di Orvieto, su un'area di oltre 100 ettari, il progetto di parco della civiltà contadina del Montepeglia mira ad essere un museo vivente, un museo parco tematico, servirebbe circa 1 milione e 200 mila euro, potrebbero essere fondi europei, che in aggiunta ai 2 milioni che sono già stati spesi negli anni 70-80 all'epoca della comunità montana, farebbero di questo veramente un polo di attrazione culturale e turistica di primo rilievo. Tutto questo chiaramente in un discorso di caratteristica viva, quindi non renderlo più statico ma renderlo funzionale, renderlo attrattivo puntando su varie fasce di offerta, sicuramente quella didattica a livello scolastico, ma quella delle famiglie, quella anche di persone che abbiano a cuore l'aspetto naturalistico, ambientale, particolare di questa tipologia di fauna e di flora che c'è in questo posto. Dei valori che vivono ancora, ma sono come addormentati, sono così coperti da uno strato di cenere, ma sotto c'è un fuoco che arde perché la realtà della società se perde questo collegamento crea poi delle sacche di vuoto che non si riempiono e crea tante problematiche. Grazie a tutti!